Baskin, il basket per tutti. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la giornata dedicata al Baskin e all'inclusione sociale che culminerà sabato 25 con la sfida al palabarbuto di fuorigrotta fra Baskin Siem e il raggio Sun Boys Baskin. In questo innovativo gioco di squadra ad ogni partecipante sono assegnate regole ed obiettivi personalizzati in base al potenziale individuale. Le regole si adattano come un vestito sartoriale, ognuno ha la sua forma in base alle abilità, ci sono i ruoli dove ognuno in base alle proprie capacità mette in campo il massimo del proprio potenziale e questo regolamento cambia in base all'evoluzione umana. È un po' un welfare generativo che si riverbera all'interno di questo meraviglioso sport che non ha nessuna caratteristica di assistenzialismo e pietismo nei confronti delle disabilità ma è un vero e proprio agonismo, una competizione equa perché mette tutte le persone sullo stesso livello anche estremamente diverse. Organizzata da Eisi, ente italiano sport inclusivi, col patrocinio del Comune di Napoli e di Unicef Campania, la giornata comincerà al Polifunzionale di Soccavo con attività di formazione per allenatori e arbitri di baskin. Ringrazio il Comune di Napoli per averci dato questa opportunità di fare questo evento il 25 di marzo presso il Palabarbuto ed è una grande soddisfazione. È stato il Comune a immaginare di fare questa giornata di sport sano, vero, sociale. Io credo che sia davvero una di quelle manifestazioni più alte di sport e invito tutti a essere presenti il 25 marzo al Palabarbuto perché davvero potremo conoscere quello che io immagino che debba essere sempre e comunque lo sport, cioè lo sport come educazione, come inclusione, come rispetto delle diversità. Venite il 25 marzo al Palabarbuto alle 15.30 perché scoprirete uno sport meraviglioso, uno sport colorato, uno sport vero dove ogni ragazzo e ragazza ci mettono dentro il massimo e rimarrete emozionati come siamo stati emozionati noi e folgorati da questo meraviglioso sport pensato e progettato per tutti.